Denecia è una barca molto speciale, tant'è vero che è la prima al mondo ad aver scritto un'autobiografia. Ha girato tutto il Mediterraneo e si è accorta che lo stato attuale del mare non versa in buona salute e quindi vorrebbe fare qualcosa per ripulirlo dalla quantità enorme di plastica che gli esseri umani ci hanno riversato e poi dal punto di vista climatico ci sono dei cambiamenti in atto perché si è ritrovata in mezzo a delle tempeste e non si era mai ritrovata ad affrontare in questo mare. Volendo fare qualcosa finalmente ha trovato dei partner ideali in Clean Sea Life and Save Mad Coast. Quindi grandi progetti per sensibilizzare chi vive sulle coste e chi va per mare. Roberto tu vivi in barca e quindi come hai risolto il problema plastica, non plastica, trovi difficoltà, come hai fatto? Il cambiamento può venire da noi, basta non usare la plastica e non ci vuole niente a lavare dei piatti, li ho appena lavati, piatti in ceramica e bicchieri di vetro e così avremo un mare più pulito. The Nature, la mia barca, sarà protagonista anche del prossimo libro che racconta i porti romani. L'estate scorsa sono andato alla ricerca di questi porti seguendo un'antica rotta commerciale degli antichi romani che va da Roma ad Arles e la maggior parte di questi porti li ho trovati sommersi sott'acqua. Questo forse ce lo può spiegare meglio Marco. Il motivo per cui li ho trovati sommersi Roberto è perché dal momento della loro costruzione di oggi il clima è cambiato, i ghiacci polari sono sciolti, il livello del mare è aumentato, anche la terra si è mossa verticalmente verso il basso, in alcune zone, per cui la sommersione è causata da questi fenomeni. Chi verrà dopo Tenecia nei prossimi decenni troverà un livello del mare ancora più alto di oggi a causa del cambiamento climatico. Infatti si si aspetta che il livello marino nell'area mediterranea possa aumentare di circa un metro da qui al 2100. Quindi i pronipoti di Tenecia troveranno sotto il livello del mare i porti di Roma o di Napoli? I porti moderni, sì.